Grazie a tutti i miei bianchi, anche con una versione del vaccino, in aspiri, sapete che voi teleponomi fare e si riappoggi. E ancora qui, mi sento di fare il vaccino rafforato, lavora per una gamba finita, in aspiri, stacca, la tavolina. Però abbiamo fatto prima, mi sento di fare il vaccino, attraverso i miei bianchi, uno, fuori gli ala, due, si, dobbiamo portare per l'azio dietro, provare altra, provare a calcare delante, la mente, stessa, con i miei, svegliendo. Mi appoggio sul piano, poi vediamo i laterali, adesso, dai, vedete come le spalle, vedete già le spalle che cadono, che cadono i suddiette, facciamo avere il vomito, centeredo per lo specchio.